Per la gestione dell'emergenza cinghiali e più in generale degli animali carnivori e selvatici è necessario agire in maniera coordinata su tutto il territorio e di impostare interventi di gestione che risultino efficaci a breve termine ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo. È quanto ha riferito nei giorni scorsi il ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio in merito all'emergenza cinghiali. Per le associazioni ambientaliste ed in particolare il WWF la limitazione dei danni provocati dai cinghiali non può avvenire però attraverso l'abbattimento degli ungulati da parte dei cacciatori. L'allarme c'è perché purtroppo i cacciatori hanno introdotto cinghiali per l'attività venatoria e hanno creato questo problema. La soluzione però non può essere affidarsi a quelli che il problema l'hanno causato. Stiamo a trovare altre soluzioni per esempio le campi di cattura, per esempio le recinzioni, di tutto quello che si può fare anche di fronte all'emergenza ma chiaramente non può essere affidata soltanto agli spari perché non servono a nulla. Tra l'altro sono ormai decenni che combattiamo il fenomeno cinghiali con i cacciatori e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. C'è un fallimento sostanziale di questa strategia, occorre cambiarla, utilizzare altro e soprattutto togliere le armi, la possibilità di sparare perché fanno soltanto danno. Ricordiamo che esistono leggi a tutela di chi subisce danni sia in agricoltura ma anche danni da incidenti stradali. Certamente esistono leggi, esistono i rimposti ma anche qui i rimposti dovrebbero essere pagati in maniera più preponderante dagli ATC perché sono gli ATC che hanno creato il problema. È assurdo che i soldi di un danno creato dai cacciatori debbano essere tratti dai conti che paghiamo tutti noi contribuenti. Io non mi sento colpevole per l'aumento dei cinghiali perché non li ho introdotti io e hanno introdotto i cacciatori per cui sta a loro risarcire il danno. Grazie Grazie Grazie